Non è una crisi produttiva, non è una crisi industriale, è una crisi prettamente finanziaria. Ritira il piano e mettiamoci a un tavolo per discutere e vedere come rendere maggiormente profittevoli le produzioni che ci sono. Per questo protestiamo e gridiamo che il lavoro da Fabriano non si tacca più! Lavoro! 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 Lavoro!